Si lancia un messaggio diverso e importante che contraddistingue questo rapporto speciale che è STRA con lo sport. Sentiamo forte la nostra responsabilità sociale di impresa e per noi lo sport è un veicolo straordinario per contribuire alla comunità dove insistiamo a livello industriale e commerciale. Lanciando la seconda edizione del premio giornalistico insieme all'Unione Stampa Sportiva Italiana vogliamo iniziare per la seconda volta un percorso che valorizzerà, gratificherà quei bravi giornalisti, piccoli, grandi che siano, in grado di raccontare delle belle storie, delle storie che non mettono in risalto solo un fatto agonistico, un risultato ma anche i valori nel senso più puro del termine appunto dello sport e come l'anno scorso cercheremo di mettere in evidenza delle belle storie di gioia, sacrificio, dolore e coraggio perché vogliamo stimolare anche i giornalisti quindi tutti gli attori in campo a mettere in risalto le cose più belle di questo grande circo che spesso si concentra su fatti che fanno più notizia, che fanno più clamore ma che niente spesso hanno a che fare con i valori storici e importanti dello sport.